Sono quasi da 11 anni che mi stanno vicino tutti quanti, la forza me la danno più loro che mi aiutano a fare questo progetto che io ho sempre pensato di portare avanti, è un sogno che adesso è diventata realtà. A 11 anni dalla morte di Annalisa Durante, giovane vittima di un conflitto a fuoco tra clan, in piazza Forcella apre la biblioteca a lei intitolata. È una struttura polifunzionale del comune gestita dal padre Giovanni che si è schierato in prima linea per offrire un futuro ai ragazzi del quartiere e rappresenta un luogo di rinascita civile aperto alla città per ospitare iniziative culturali di formazione e di orientamento al lavoro. Iniziare a fare un lavoro di rigenerazione urbana che ci consente di contrastare il degrado. Il degrado non è solo quello sociale degli edifici, è soprattutto un degrado culturale, quindi con la cultura noi possiamo fare una rivoluzione democratica e fare cambiamenti che siano duraturi. Ad oggi sono già 6.000 i volumi donati e a disposizione del quartiere, ai quali se ne aggiungono altri 5.000 offerti da Tullio Pironti. Nella biblioteca di Annalisa Durante, oltre alla lettura in loco, gli utenti possono anche scambiare libri, prenderli in prestito e farli girare nella propria rete di amici e conoscenti. L'obiettivo è diffondere la cultura e promuovere occasioni di aggregazione e crescita culturale. Io penso che fare una biblioteca a forcella significa dare un segnale importante, ma solo un segnale, perché poi qui nel corso del tempo abbiamo avuto anche delle sconfitte, penso alla chiusura della ludoteca che dobbiamo assolutamente riaprire. O sempre di più dobbiamo aiutare innanzitutto la scuola, perché per me la cultura in un territorio è innanzitutto la scuola e l'opera di educazione che fa la scuola. Il progetto della biblioteca, che nasce da un'idea del padre di Annalisa, è realizzato in collaborazione con l'associazione Annalisa Durante, libera la fondazione Polis e percorsi d'arte. Se hai i libri da donare, li puoi portare all'associazione Annalisa Durante. È un sogno per più per i ragazzi, non per me, per dare un'aiuto a questi ragazzi.